L'Unione Europea è troppo morbida nei confronti della Turchia, unico paese membro della Nato a non aver adottato sanzioni contro la Russia, con cui commercia senza differenze rispetto a prima dell'invasione dell'Ucraina. L'accusa non arriva dall'esterno, ma da Nikos Anastasiades, presidente della Repubblica di Cipro, che in un'intervista a Euronews condanna fermamente l'atteggiamento di Ankara, pronta ad aiutare Mosca a deludere le restrizioni. Ma anche quello di Bruxelles, al contrario inflessibile, verso gli stati membri, chiamati a imporre sanzioni, in alcuni casi dannose per le proprie economie. Invece di concentrare l'attenzione su paesi che non hanno un'influenza diretta sul mercato russo, sarebbe stato meglio capire quale paese non sta adottando nessuna delle sanzioni. E' un paese a noi vicino, un candidato all'adesione all'Unione, che fa parte della famiglia politica europea. Parlo della Turchia, che di fatto facilita l'esportazione in Europa di prodotti come l'acciaio russo, attraverso il suo territorio. Il capo di Stato cipriota ritiene inoltre che l'Unione non faccia abbastanza per contrastare retorica e atteggiamento aggressivo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nei confronti del suo paese e della Grecia. Una dinamica che potrebbe presto degenerare. Non si può condannare la Russia per aver violato il diritto internazionale e poi fingere di non capire quando il diritto internazionale viene violato da un paese candidato all'adesione contro gli attuali membri dell'Unione europea. E' questa tolleranza che incoraggia la Turchia ai rischi di portare a un nuovo conflitto all'interno dell'Europa. Nel 1974 i turchi invasero la parte settentrionale di Cipro dopo un colpo di Stato militare e nel 1983 fu dichiarata la Repubblica di Cipro del Nord, non riconosciuta dal potere centrale. Da allora l'isola è divisa in due parti e i rispettivi governi mantengono una relazione problematica e conflettuale.